in grado di rispondere ai problemi reali delle persone e di resistere alla prova del tempo. Da parte mia, non posso che assicurare la vicinanza della Santa Sede e della Chiesa all'Europa intera, alla cui edificazione Ada sempre contribuito e sempre contribuirà, invocando su di essa la benedizione del Signore, perché la protegga e le dia pace e progresso. E faccio perciò mie le parole che Josef Bech pronunciò in Capidoglio, c'è terum cencio Europam esse edificandam. D'altronde, penso che l'Europa merite di essere costruita. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.